Marco, il gruppo che ti sostiene su Facebook è arrivato in qualche giorno a quasi mille sostenitori. Questa sera alle 19 c'è il sit-in all'Incampo Marconi di sostegno. Alcuni, sia sul blog che sulla pagina, chiedono come mai non avevate trovato una soluzione, l'amministrazione non ti era venuto incontro. Vuoi dire qualcosa ai tuoi sostenitori? Sì, l'amministrazione mi ha dato qualche ora di prolungamento a fronte di un mio impegno di fine stagione di togliermi, senza nessuna garanzia di quale sarà poi la mia sorte. Quindi mi sembra molto impegnativo da parte mia accettare questa cosa. Molto impegnativo da parte mia e del tutto inesistente l'impegno dell'amministrazione, perlomeno sulla carta. Ma quindi in realtà tu non stai fino a... non hai un programmetto? No, io sto ancora chiudendo le 8.30 come dice il programmetto. Per quanto riguarda il sit-in di questa sera, vi prego cercate di venire in tanti a sostenermi, a dimostrarmi la vostra solidarietà.